Superata sia pure a fatica l'insidia Bari è forte dei 17 punti, appena tre in beno della corazzata Inter, racimulati finora in campionato che lo collocano al decimo posto, il Catania lavora senza sosta ma in assoluta serenità nel proprio quartier generale ai piedi dell'Etna. Senza alcun assillo di classifica con la mente sgombra da pensieri negativi, i Rosso Azzurri preparano le due ravvicinate sfide col Brescia di Coppa Italia e con la Lazio in campionato. Per giovedì sera contro il Brescia dell'ex Baiocco, Giampaolo ha già annunciato che rivoluzionerà la sua squadra. Nell'undici titolare troveranno infatti spazio quei giocatori che finora hanno avuto poche occasioni per mettersi in mostra. L'ampio turnover permetterà poi agli altri di rifiatare e preparare per bene la difficile trasferta con la Lazio, seconda forza del calcio italiano. Sicuramente, prima dobbiamo pensare al Brescia però da oggi iniziamo a preparare la partita, sarà sicuramente difficile, non dobbiamo sottovalutare l'avversario, cercare di vincere in casa e poi pensare alla partita dell'Olimpico che sarà molto complicata e alla quale ci teniamo tanto. I sei punti di margine sulla zona rossa oltre a dare tranquillità sono anche uno stimolo a fare meglio. Sì, sì, sicuramente ci stimola, non è un motivo per rilassarci, dobbiamo continuare e continuare a fare punti. Noi vogliamo arrivare il prima possibile alla salvezza e poi cercare di stupire e di arrivare in più in alto possibile. La vostra è una difesa praticamente quasi insuperabile, siete la terza migliore di tutta la Serie A, c'è un segreto? E' un complimento per tutti, per il mister e pure per noi, credo che è una squadra che lavora molto bene in fase difensiva, dagli attaccanti che sono i primi che iniziano a correre e a stringere gli spazi, ai difensori, credo che tutti lavorano a servizio della squadra e niente, stiamo facendo molto bene e dobbiamo continuare così. Lo scorso anno Maxi Lopez fu decisivo a Roma contro la Lazio proprio, questa volta non ci sarà? Sì, non ci sarà, mi dispiace tanto per lui, per la squadra, però sicuramente abbiamo altri attaccanti che sono in grado di sostituirlo e sicuramente faranno molto bene.